Disaggia il terzo circolo didattico di Paternò con la scuola trovata con i riscaldamenti spenti questa mattina. Il guasto risolto poco dopo e per le scuole resta il problema delle caldaie non a norma e le certificazioni antincendio scadute. Se insiedato questa mattina il nuovo segretario generale a Paternò, il segretario si chiama Giuseppe Bartorilla, l'ente si appresta a modificare la macchina burocratica e politica. Potrebbe trasformarsi in un nuovo caso politico, lo scontro verbale avvenuto tra il consigliere comunale Pippo Orfanò e il vice segretario comunale Lucia Longo. Forza Italia chiede il provvedimento disciplinare, la Longo risponde non ho voluto offendere il consigliere Orfanò. Il 2019 si apre a Paternò con un imminente rimpasto in giunta, ancora nessun nome ufficiale, ma tutti gli occhi sono puntati sul gruppo Paternò On. Polemica Biancavilla per i doppi turni degli allunni tra la scuola Sturzo e Bruno, i genitori degli allunni della Sturzo chiedono un'alternanza più equa dei turni pomeridiani, oggi manifestazione di protesta al comune di Biancavilla. Il piano paesaggistico di Paternò è della provincia di Catania, questo il titolo della conferenza organizzata oggi pomeriggio dall'archeoclub di Paternò nella chiesa dello Spirito Santo. Ottima prestazione della biancavillese Salvina Nicosia al Trinatria Games 2019 di CrossFit di Santo Stefano di Camastra. Edizione della sera per Ciac News che apriamo partendo dai disagi riscontrati al terzo circolo didattico di Paternò con la scuola trovata questa mattina con i riscaldamenti spenti. Il guasto risolto comunque poco dopo per le scuole resta il problema delle caldaie non a norma e delle certificazioni antincendio scadute. Sentiamo di più. Ancora disagi alla plesso centrale del terzo circolo didattico, ancora un arrivo con la scuola freddo per gli studenti che questa mattina hanno trovato i riscaldamenti non funzionanti. Il problema con i radiatori appena cambiati questa volta è stato determinato dalla rottura del timer collegato alla caldaia con il risultato che questa mattina mancando l'input di accensione il sistema non è partito e la scuola come detto è rimasta al gelo. In pratica il timer non riesce a mantenere attiva la programmazione. Su tutte le furie genitori degli studenti che hanno tentato di capire cosa stesse accadendo. A questo si aggiunge il fatto che al momento i radiatori sono stati installati soltanto nelle classi mentre i corridoi restano al freddo con il risultato che la scuola resta comunque parzialmente fredda. Per poter avere i radiatori sostituiti anche nei corridoi occorrerà attendere il prossimo mese di febbraio quando concretamente saranno nella disponibilità della ditta che deve installarli. Per risolvere il problema questa mattina immediato l'intervento della geometra Alberto Chiavetta responsabile dell'impiantistica in città. Il timer è stato riprogrammato per l'intera settimana sperando che riesca a resistere. Intanto è stato effettuato l'ordine di acquisto nella speranza che si riesca anche qui a recuperarlo in fretta. E poi resta il problema caldaia. Al terzo circolo come in tutte le altre scuole della città non è a norma perché manca la revisione biennale. A questo si aggiunge che anche le certificazioni antincendio sempre relativamente a tutte le scuole sono scadute a fine anno. Fatto quest'ultimo che sotto la giunta Mangano innescò un affuoco di polemiche oltre a far partire un'indagine della magistratura catanese. Una donna di 75 anni di paterno, le sue iniziali sono GM, che abitava in via Canonico Renna è stata rinvenuta senza vita nel suo appartamento in centro città forse a causa di un malore a dare l'allarme ai vicini di casa che non riuscivano a mettersi in contatto con la donna e che non la vedevano da qualche giorno. La signora è stata ritrovata vestita sul letto e con il telefono in mano, ma purtroppo non è riuscita a chiedere il necessario aiuto. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118, una tragedia della solitudine, purtroppo come accade spesso tra gli anziani, a dare la notizia è Meridion News. E si è insediato questa mattina il nuovo segretario generale a Paternò, il segretario si chiama Giuseppe Bartorilla, l'ente si appresta a modificare la macchina burocratica e politica. A Paternò si è insediato questa mattina il nuovo segretario generale, si tratta di Giuseppe Bartorilla. La nomina arriva dopo una convenzione stilata con il comune di Bronte, dove Bartorilla svolge già l'incarico di segretario generale con il professionista che dividerà le ore dell'incarico al 50% tra i due comuni. Bartorilla a Paternò aveva già un incarico come presidente del nucleo di valutazione. Tecnicamente è una convenzione di segreteria al 50% per ciascun comune, quindi le mie ore lavorative sono suddivise su due comuni, appunto, 18 ore a Paternò e 18 ore a Bronte. Ovviamente le ore del segretario sono sempre così, diciamo, molto di più rispetto a quelle che effettivamente si fanno, però tecnicamente siamo in convenzione con Bronte, 50% ciascuno. Un incarico importante per lei in una realtà importante, insomma, come quella di Paternò? Diciamo un incarico che spero di poter onorare così come merita. Ringrazio il sindaco ovviamente per la fiducia, il sindaco Lino Naso e ringrazio anche il Consiglio Comunale nella sua interezza per aver votato la convenzione con il comune di Bronte. Spero soltanto assieme ai dirigenti di poter contribuire nella legittimità degli atti, ovviamente, a poter far raggiungere al sindaco quelli che sono gli obiettivi programmatici che ha espresso al popolo e sui quali ha avuto la fiducia del popolo stesso. È una scelta importante, una scelta personale perché sono andato io a cercare un professionista importante e serio che può dare un contributo importante alla città. È un primo passo, per poi in settimana già lavoreremo sulla macchina amministrativa, che faremo alcuni movimenti anche all'interno della macchina amministrativa e burocratica, ci sarà la riduzione di qualche unità operativa e abbiamo aggiustato e oleato i meccanismi. Dopodiché agiremo, lavoreremo anche per la macchina politica, quindi ci sarà anche un movimento in giunta. Dopodiché partiremo e non ci fermeremo più. Questa è la seconda fase della nostra amministrazione. Abbiamo visto, siamo stati attenti, abbiamo lavorato, abbiamo cercato di sopperire a tutte le emergenze che c'erano. Questa è un'amministrazione che è partita con 6 milioni di debito di spesa corrente, 6 milioni di debito di spesa corrente, è riuscita a tenere i conti in equilibrio, è riuscita a fare tutto quello che c'era da fare. Ora vogliamo dare un impulso in più per programmare il futuro della nostra città. Sono sicuro che questo nuovo innesto darà maggiore linfa, darà un impulso in più per poter lavorare tutti insieme per Paternò. Tre persone sono state poste agli arresti domiciliari dal GIP di Catania su richiesta della locale procura distrettuale nell'ambito delle indagini della Guardia di Finanza su professionisti e dipendenti infedeli di riscossione Sicilia. Per altri tre indagati sono state disposte misure interdittive, sono accusati a vario titolo di concorso in corruzione continuata, accesso abusivo ad un insistema informatico e rivelazione di segreti d'ufficio. Tra i destinatari delle misure cautelari ci sono due avvocati catanesi di cui uno già dirigente in pensione della Serit e tre funzionari attuali dipendenti dell'ente di riscossione regionale di Catania e Messina. E potrebbe trasformarsi in un nuovo caso politico lo scontro verbale avvenuto tra il consigliere comunale Pippo Orfanò e il vice segretario comunale Lucia Longo. Forza Italia chiede il provvedimento disciplinare, la Longo risponde non ho voluto offendere il consigliere Orfanò. Sentiamo di più. Un confronto verbale tra il consigliere comunale Pippo Orfanò il vice segretario comunale Lucia Longo rischia di trasformarsi nell'ennesimo scontro politico. Il caso tra la Longo e Orfanò è scoppiato durante una seduta della commissione consigliere al bilancio per ragioni meramente amministrative. Io precedevo già con insieme al presidente Agatha Mazzola la commissione bilancio e ad un tratto si è aperta la porta e mi ha aggredito moralmente dicendome alcune parole e in più aveva dei fogli in mano quindi me li ha sbattuti altamente quasi in faccia e dopodiché mi avevo richiesto le giustifiche che mi toccano a me come figura istituzionale che uno si estende del lavoro ci spettano. Li volevo tornati indietro perché li voleva invalidare. Detto questo poi lei nella misura che io occupo di consigliere comunale lei ha violato il codice deontologico più l'altro codice che è quello che sono un pubblico ufficiale. Quindi mi dispiace che sia una donna anche che era un uomo io non alzavo neanche le mani. Quindi io avvio questa mia discussione e spero che mi ascolti il presidente del consiglio di dare vita a un partito che lo chiederà a un consiglio straordinario dove c'è insieme alla dottoressa Longo che verrà in aula che si è discusa davanti a tutti perché è una persona che ha onori davanti a tutti i consiglieri comunali. In quell'attimo io mi sono sentito molto molto male. A dimostrare solidarietà al consigliere Orfanò il gruppo consigliare di Forza Italia che nel fine settimana ha inviato agli organi di stampa un comunicato per stigmatizzare quanto accaduto. Bisogna avere il rispetto per il consiglio comunale e per questo che noi chiediamo con forza l'avvio di una procedura disciplinare nei confronti della dottoressa Longo perché la riputiamo necessaria perché non può andare in silenzio questa situazione perché nell'attaccare il consigliere Orfanò di qualunque partito possa essere ringraziando Dio perché è una persona splendida e del mio partito che è il partito di Forza Italia qualunque persona che attacca un consigliere comunale per di più nell'esercizio delle sue funzioni è un attacco che fa l'intera cittadinanza. Bisogna mobilitarsi in modo che ciò non succeda nuovamente. È una vergogna. È una vergogna che oggi ci vediamo attaccati da un soggetto tecnico che non ha nulla a che vedere con la politica. Questa invece la replica della dottoressa Longo che rispedisce al mittente le accuse mosse da parte dell'opposizione in consiglio. La polemica probabilmente predestosamente montata che poteva sicuramente ricondursi ad un attimo diciamo di personale frizione credo giustificabilissima rispetto a un lungo periodo di tensione e di nervosismo che mi ha provocato questo atteggiamento incomprensibile da parte un po' di tutti i consiglieri dell'opposizione in ordine alla legittimazione della mia nomina a vice segretario. Che sia chiaro io rispetto a questo argomento ho sempre dato loro la massima serenità nel confortarli in ordine all'assoluta regolarità del mio incarico e nonostante questo hanno continuato sempre in ogni momento in ogni dove in ogni luogo a proporre la medesima perplessità. C'è un momento nel quale poi chiaramente qualunque persona umana credo che ha un sistema neurologico anche di una certa sensibilità può crollare. All'ennesima contestazione in ordine appunto sempre alla medesima situazione io ho voluto probabilmente con un attimo diciamo di nervosismo del quale certamente mi scuso e avrei avuto sicuramente i tempi e i modi per potermi scusare personalmente con lui ho avuto un attimo di frizione il quale li ho appunto ribadito che se da parte sua c'è e continua ad esserci questo atteggiamento di sfiducia o di perplessità in ordine alla mia nomina a vice segretario non mi spiego e non mi sarei dovuta spiegare né tantomeno lui avrebbe potuto chiedermelo una giustificazione in ordine alle sue presenze in consiglio. Credo che sia un fatto di estrema coerenza se tu non hai fiducia nei confronti di una persona non vedo perché lo inviti a diciamo esternalizzare formalizzare atteggiamenti che gli sono riconosciuti. Bene è successo soltanto questo ma all'interno diciamo del privato di una stanza del comune nessuno contesta al consigliere Orfanò la sua sicuramente portata di rappresentatività popolare nessuno lo ha mai minimizzato in quella che è la sua funzione non ho offeso sicuramente né tanto meno aggredito il consigliere Orfanò. Il 2019 si apre a Paternò con un imminente rimpasto di giunta ancora nessun nome ufficiale ma tutti gli occhi sono puntati sul gruppo Paternò. Sentiamo perché. Facciamo un po' il punto delle situazioni in merito all'assetto degli assessori attualmente componenti l'aggiunta del comune di Paternò. Il 2018 ha visto l'insediamento di due nuovi assessori lo scorso aprile Angelo Calenduccia con delega l'assessorato dello sport, turismo, spettacolo, politica giovanile e sanità ed Inenzi Leotta con delega i servizi sociali, alle pari opportunità, alle istruzioni e gli affari legali e contenzioso. I suddetti assessori sostituiscono in giunta i dimissionari Carmelo Maiolino e Rita Maccarone. A queste due nuove nomine fa seguito una redistribuzione delle deleghe. Il primo cittadino, Nino Nataso, tiene per sé le deleghe ai lavori pubblici e urbanistica togliendola al vice sindaco Ezio Mannino e quella al bilancio sottratta l'assessore Aldo Motta. A Ignazio Mannino sono state assegnate invece le deleghe a Ecologia, Servizi Simmateriali, Protezione Civile, Ambiente e Verde Pubblico. A novembre arrivano invece del tutto inaspettate le dimissioni dell'assessore Franco Pennisi con deleghe a Polizia Municipale, Viabilità, Tutale Animali e Randagismo, Servizi Demografiche ed Elettorali e il ritiro dell'incarico e delle deleghe alle attività produttive, sviluppo locale, agricoltura, affari generali e società partecipate all'assessore Aldo Motta. Da novembre tutto è rimasto congelato, nessuna sostituzione. Priorità assoluta è stata data infatti al bilancio. Ad oggi, secondo quanto dichiarato dallo stesso sindaco Nato, è previsto un imminente rimpasto di giunta. Al momento nessun nome ufficiale, ma pare che verrà preso in serie considerazione il gruppo Paternone, a cui fa capo Vito Rau, con i consiglieri Agata Marzola e Alfredo Sciacca. Subito dopo, finita questa fase, metterò mano proprio alla giunta, quindi a completare quello che è la nostra macchina politica con gente che deve venire con la massima disponibilità per servire la nostra città. È una grande città, grande, l'ho detto prima, grande come quantità è grande anche come estensione, ma deve essere grande anche come contenuto. Questo sindaco si vuole dotare di altri professionisti seri che possono dare una mano alla città anche a livello politico. Adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità e la nostra informazione. Torniamo subito dopo. Energreen Power è un'azienda specializzata in energie rinnovabili, grazie all'esperienza maturata nel corso del tempo. Energreen Power è in grado di offrire ai propri clienti soluzioni adatte a qualsiasi esigenza, realizzando impianti fotovoltaici, sia di grandi che di piccole dimensioni. Il nostro team di operatori specializzati garantisce un'assistenza completa e costante durante tutte le fasi di esecuzione dell'opera, dall'ideazione dell'impianto alla richiesta delle autorizzazioni necessarie, dall'installazione all'assistenza post vendita, fino alla manutenzione. Affidati a personale esperto. Scegli Energreen Power. In questo periodo da Energreen Power, grande offerta d'autunno. Impianto fotovoltaico 3 kW chiave in mano, 3450 euro più IVA 10%. Impianto 4,5 kW più batterie, accumulo 4,8 kWh. Offerta chiave in mano, IVA inclusa, 9.900 euro. Impianto 6 kW più batteria, accumulo 5,5 kW. Offerta chiave in mano, IVA inclusa, a 13.900 euro. Per info e sopralluoghi, chiamare allo 095 85 74 77 oppure al 340 33 57 408. Energreen Power, contrada a Tre Fontane e Paternò. Visita il nostro sito internet www.energreenpower.it Rientriamo in studio con la seconda parte del nostro telegiornale polemica a Biancavilla per i doppi turni degli alunni tra la scuola Sturzo e Bruno. I genitori degli alunni della Sturzo chiedono un'alternanza più equa dei turni pomeridiani. Oggi manifestazione di protesta dei genitori al comune biancavillese. A Biancavilla scoppia la polemica per i turni pomeridiani a cui sono costretti gli alunni della scuola Luigi Sturzo. Edificio scolastico, quello della Luigi Sturzo, inagibile dopo il sisma dello scorso 6 ottobre che colpì pesantemente gli edifici pubblici e privati del nostro territorio. Gli alunni della Sturzo hanno proseguito le attività didattiche all'Antonio Bruno, edificio questo che invece non ha riportato danni post-sisma. Adesso però alcune mamme degli alunni della Sturzo chiedono un'alternanza più equa dei doppi turni che fino ad ora ha gravato solamente sulle spalle dei loro figli. In una lettera i genitori della Sturzo accusano l'Antonio Bruno di scarso ospitalità e solidarietà nei confronti degli ospiti. Gli alunni della Sturzo per l'appunto e chiedono che le parti in causa, amministrazione comunale, dirigente scolastico, consiglio di istituto della Bruno, esprimere pubblicamente il loro avviso in ordine all'opportunità di attuare l'alternanza nell'effettuazione dei turni pomeridiani, ovvero ad esternare le ragioni ostative. Parole queste, scritte in una lettera, i fatti dicono che oggi pomeriggio i genitori della Sturzo si sono recati al comune di Biancavilla per esternare il loro malumore profondo, tant'è che oggi gli alunni della Sturzo hanno scioperato. Non recandosi in classe non è detto che la protesta si sia conclusa ad oggi. Dal canto suo il sindaco di Biancavilla Antonio Bonanno prova a mediare tra le parti e a spegnere le polemiche in merito ai doppi turni. Le dirigenti scolastiche degli istituti Sturzo e Bruno stanno lavorando con alto senso di responsabilità per riorganizzare orari alternanza nella turnazione. Dice Bonanno per noi non esistono alunni di serie A e di serie B, per noi non esiste un istituto piuttosto che un altro, per noi esiste una sola comunità scolastica che va tutelata e salvaguardata. Abbiamo ricevuto un finanziamento di 810 mila euro continuo a Bonanno per sistemare quegli edifici scolastici danneggiati dal sisma e questo la dice lunga sul nostro impegno e sui danni che hanno riportato i nostri edifici scolastici. Con l'avvio dei lavori, conclude il sindaco Bonanno, dall'anno prossimo non ci saranno più disagi per i nostri alunni. A noi interessa solamente la sicurezza dei nostri alunni. Il piano paesaggistico di Paternò e della provincia di Catania, questo è il titolo della conferenza organizzata oggi pomeriggio dall'archeocleb Iblamajor di Paternò nella chiesa dello Spirito Santo. Sentiamo. Il piano paesaggistico di Paternò e della provincia di Catania, questo è il tema affrontato oggi pomeriggio nel salone della parrocchia Spirito Santo di Paternò ad organizzare l'approfondimento sull'argomento e la sezione Iblamajor dell'archeocleb di Paternò. Abbiamo deciso di inserirci nel dibattito, di dare la possibilità a questa comunità locale di riflettere su questo strumento nuovo che ha avuto una lunghissima gestazione ma che oggi è nella fase conclusiva per quanto riguarda l'approvazione e l'entrata in vigore. Abbiamo deciso di offrire questa opportunità perché riteniamo che sul piano paesaggistico e sui beni paesaggistici si possa costruire un nuovo modello di sviluppo, quindi crediamo che sia opportuno sentire la collettività, sentire la parte politica, sentire l'associazionismo e vedere se si può dare un contributo in termini di miglioramento di questo piano. Un momento di confronto fra tecnici e non solo che ha visto la presenza del deputato regionale Gaetano Galvagno e gli interventi di tecnici e politici locali quali l'architetto Luigi Longhitano e l'ingegnere Maurizio Erbicello, oltre al presidente della commissione consigliare al ramo, Giuseppe Lopresti. E' importante perché diciamo cominciamo ad attuare la Costituzione della Repubblica italiana, qua l'articolo 9 recita che questa nazione nel paesaggio vede uno dei suoi punti di forza, dove è un piano che a livello diciamo generale, a livello provinciale governa tutto il nostro territorio, per cui è un piano sovraordinato che poi obbliga i comuni nei piani regolatori e ad uniformarsi a questa qualità del paesaggio che a mio avviso non è vista come un atto di vincolo ma può essere un atto diciamo di sviluppo del nostro territorio in quanto la tutela e per il futuro dei nostri figli sostanzialmente. Per Paternò cosa significa? Per Paternò significa integrare quello che è il sistema fiume, quello che è il sistema città, quello che è il sistema percorsi, l'archeologia, visto che siamo in questa assise, dell'area diciamo di Paternò e diventa importante se questo sistema viene connesso con la città. Paternò si trova in un territorio molto grande, un territorio che è pieno di bellezze oltre che di natura ambientale e naturalistica anche di natura archeologica. La tutela di questo patrimonio diventa importante sia ai fini della trasmissione di questo territorio intatto e con le sue caratteristiche di bellezza e con le sue qualità turistiche ai nostri successori ma anche perché è necessario che si raccordino queste esigenze con le esigenze dei cittadini paternesi che vogliono investire sul territorio, che vogliono investire in ambito agricolo, che vogliono investire nell'edilizia. Che è necessario che la Commissione e il Comune insieme ai tecnici comunali si occupino proprio di fare da tre d'unione tra gli interessi di natura economica e gli interessi preminenti di natura ambientale e architettonica. Restiamo sul tema perché è arrivato un annuncio da parte della Presidenza del Consiglio Comunale di Paternò proprio sul tema del piano paesaggistico. Le associazioni culturali, ambientali, storiche e professionali, leggiamo il comunicato, sono invitati a dare la propria adesione alla partecipazione ai tavoli tematici sui caratteri paesaggistici, ambientali, culturali e storici del territorio di Paternò che con l'adozione del piano paesaggistico intendono far rispettare, valorizzare e a partecipare all'incontro di venerdì prossimo, giorno 18 gennaio alle ore 17 presso la sede comunale di Palazzo Alessi. Ottima prestazione della bianca villese Salvina Nicosia al Trinacria Games 2019 di CrossFit che è avvenuto a Santo Stefano di Camastra. Voi che sei prima! Voi che sei prima! Ottima prestazione della bianca villese Salvina Nicosia al Trinacria Games 2019 svoltosi a Santo Stefano di Camastra. Si tratta di uno dei più prestigiosi eventi in Italia di CrossFit, una disciplina del fitness. Su 77 atleti partecipanti Salvina si è classificata al sesto posto, un'affermazione salutata con gioia anche dai suoi amici tifosi giunti in provincia di Messina con striscioni per sostenerla da vicino. Salvina Nicosia da circa un anno si cimente in questa disciplina con risultati positivi con la supervisione del suo coach Davide Scuderi, anche lui atleta nella categoria d'elite che opera presso il centro sportivo Pleia di Palestra di Biancavilla. Già dai primi allenamenti ho capito che avevo davanti una ragazza tenace con tanta voglia di imparare e migliorarsi, afferma il coach Scuderi, il quale aggiunge Salvina e Testarda non si ferma al primo ostacolo, si spinge sempre oltre i suoi limiti ed è questo quello che mi ha colpito di lei. Dal canto suo Salvina Nicosia si dice meravigliata della performance del sesto posto al San Stefano di Camastra, consapevole comunque che la strada è ancora lunga per uno sport come il CrossFit dove non si finisce mai di imparare e migliorare. Ringrazio il mio coach Davide Scuderi e la palestra Pleia di Dice Salvina che mi hanno fatto scoprire questo bellissimo sport che mi sta regalando emozioni uniche e grandi soddisfazioni. Invito tutti a provare questa attività che considero la massima espressione del fitness che ogni giorno permette di sfidare se stessi, stare bene fisicamente e mentalmente. Ringrazio anche gli amici che sono venuti a San Stefano di Camastra appositamente per incoraggiarvi da vicino. Questa era l'ultima notizia per l'edizione della sera, prossimo appuntamento con la nostra informazione domani con l'edizione delle 13.30. Vi ricordo i nostri aggiornamenti sulla pagina Facebook e sul sito cactalesud.com. A voi buon proseguimento di serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.